Ciao a tutti ragazzi, qui tutto questo è il mio nuovo video e oggi siamo qui sulla Charlie Charlie Challenge La famosa Charlie Charlie Challenge E io dico di cominciare subito perché ora di pranzo devo andare a mangiare Allora, senza spiegazioni Charlie Charlie, ci sei? Niente Allora, alla regia c'è sempre il pocio Poi, Charlie Charlie, ci sei? Charlie Charlie Ci sei? Ma va, va Un secondo di... Ok Non c'è Non c'è Charlie Charlie, ci sei? Si muove un po' il foglio ragazzi No, spero, sei mosso? Guarda, il colore Vabbè, ma di pochissimo E mi sembra che sta su sì Ragazzi, c'è, c'è, c'è ragazzi Secondo lui c'è Charlie Charlie, vabbè Facciamone una domanda Sei donna Charlie Charlie? Non ha risposto Sei donna Charlie Charlie? Ok Charlie Charlie, sei donna Charlie Charlie? Che cazzo è la raga? No, scusate la paraccia Scusate Ragazzi, no Si è spostato Ma questo sono no Si è spostato in colore Ciao Ragazzi Dopo questo video Avete potuto capire che la Charlie Charlie È una gran cazzo Non l'abbiamo soffiato Ma sarà un colpo di vento Perché abbiamo pure una finestra all'aperta Alla come via Niente, passiamo